Hello ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questa nuova parte su Minecraft. Sono fermo dentro la mia farm di ferro per il semplice fatto che mi sono messo a farmare un pochettino e adesso devo correre a casa perché è notte. Poi vi spiegherò quello che andremo a fare in questo episodio, in realtà non lo so neanch'io. Cioè, ho una mezza idea e la prima cosa che voglio fare è sistemare la farm di villager, quella là. Ho controllato un po' in giro, so come fare, so come metterla a posto, quindi la prima cosa che andremo a fare sarà appunto farla funzionare di nuovo. Poi, voglio farvi vedere che ho modificato il cristallo che avevo creato. Come potete benissimo vedere adesso l'ho fatto un po' più grosso e questa cosa l'ho... sono riuscito a farla grazie a un sito che ti permette di creare i... come si chiamano... le forme. È una cosa molto utile che non sapevo di cui non sapevo l'esistenza. Praticamente voi mettete la forma che volete, io ho messo in questo caso cristallo. Mettete la larghezza massima, che quindi è praticamente la base centrale. Mettete l'altezza massima e praticamente vi crea tutti i livelli da fare e vi dice quanti blocchi mettere nel primo livello, quanti nel secondo, nel terzo, eccetera, eccetera. Ed è una cosa molto utile e mi piace un sacco. Infatti credo che adesso la utilizzerò perché mi aiuterà a creare le forme, insomma. Comunque vedete, ho fatto il cristallo, l'ho fatto con l'interno arancione sempre e il vetro viola scuro. Non è il magenta che ho usato prima, ma il viola scuro esterno. Gli ho messo anche dei pezzi di pannelli in giro in modo che sembra in tipo delle particelle, non lo so. L'ho visto fare, sembra una roba carina. Effettivamente è carino. C'è un'ultima cosa da fare là sopra adesso che grazie a un commento di Nugget, anzi più che altro poi devo andare a mettere anche nella torre degli iscritti dei nomi perché tutte le cose che sto costruendo ovviamente sono prese d'ispirazione dai commenti che mi avete lasciato quindi poi li andremo a mettere. Allora devo fare, vado a vedere come si fa, un cristallo del land che si fa con, ahia, il vetro, l'occhio di Ender e la crema di Ghast. Ok, potrebbe essere un problema, ma forse no, in realtà neanche tanto. Dovremmo avere tutto il necessario, abbiamo le lacrime di Ghast e ne prendiamo 4. Prendiamo 4 occhi e 4, in teoria si fanno col Blaze, vero? Se non sbaglio, se non mi ricordo male, perfetto. Ok, 4 e 4 e il vetro, no? Ok, è facile. Prendiamo anche dell'ossidiana che in teoria serve per mettere poi l'occhio di Ender. Prendiamo il vetro, prendiamo l'ossidiana che poi ci servirà per piazzarlo. Ok, cristallo del land, in teoria posso farne 4. Io raga sto sperando che non si generi l'ender dragon, cioè nel senso. Se io vado a mettere i cristalli del land, io so che i cristalli del land possono essere utilizzati per evocare l'ender dragon, ok? Però non è che mi piacerebbe molto avere un ender dragon che mi gira nel mondo qua. Io spero che si generi solamente nel land, che poi lo andremo a fare perché c'è una cosa carina che si può fare con... revitalizzando l'ender dragon più volte. Ma di questo non preoccupiamoci adesso perché prima o poi comunque andremo a lavorare anche nel land. Allora, io voglio venire qua. Voglio fare una cosa del genere. Io spero che ho portato la terra giusta. E dobbiamo andare a mettere praticamente i blocchi... Allora, facciamo una cosa del genere, scusa. Ecco, questa roba mi fa schifo. Purtroppo quando ho rifatto il blocco... Il blocco del robo mi si è decentralizzato. Ok, così. Dicevamo. Dobbiamo mettere in teoria il blocco di ossidiana. Io lo volevo fare un po' distante perché purtroppo sono un po' infami sti... sti cristalli del land. Ovvero che non si collegano tra di loro. Ecco, no, tipo qua... Tipo qua viene un casino. E adesso mi sto chiedendo perché diavolo non ho portato le casse di... di cosoli, di... le scale quelle che... Sono fatte appunto le impalcature, sono fatte apposta, le ha create il gioco. Utilizziamole, dico. No, no, niente, sono scemo. Ok, allora facciamo una roba del genere. Quindi abbiamo ai lati... Oh, santissimo. Ma non ci vedo neanche per metterlo dritto. Dai, forza. Adesso arrivo, 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 ti ammazzo. Dunque, dicevamo. Allora queste robe vanno dritte, ok? Le metto separate per il semplice fatto che lo si... Aspetta, ma io come lo recupero? Oh, ma porca miseria. No, 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 lo sapevo io che andavo a finire così. Perché devo perdere mezz'ora per fare una cosa semplice come mettere dei cacchio di blocchi? Fammi mettere il coso. Ok, uno, due, tre... Quattro. Allora raga, stiamo calmi un attimo. Ragioniamo con la nostra testa e pensiamo. Ho fatto una cagata, sicuramente. Ho fatto esplodere tutto il robo perché ho toccato il cristallo. Va benissimo. Ora gentilmente mi ridate tutta la mia roba, grazie, no? Perché quella... sai com'è? Quella non te la lascio, ok? Avevo 219 livelli. Non me ne frega niente. Cioè, dei livelli raga... Guarda, sono proprio l'unica cosa che non mi interessa perché... Mi basta andare nella mia farm di oro lì, mi metto FK un attimo e me le rifaccio subito. Non me ne frega niente dei livelli. Però io dico, porca di quella vacca, ma perché sempre a me ste cose? Da quant'è che non morivo, raga? Cioè, 219... Cioè, avevo... Cos'era il punteggio? Tipo 1.700.000? Era un assurdo? No. Sono morto per un cristallo. Cioè, vi rendete conto? Dov'è l'elitra? Dov'è il mio elitra? Raga, mi manca... Mi manca anche l'armatura. No, 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 non scherziamo, fermi. Fermi, 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 che qua adesso io spacco tutto, eh. Raga, mi manca metà della roba. Mi manca l'elitra, mi mancano le mie scarpe, mi manca un sacco di roba. Oh, no, 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 allora, ascolta. Porca di quella vacca, adesso mi arrabbio, eh. Adesso mi arrabbio, adesso stai fermo... E mi ridai la mia cacchio di scatola. Veloce, veloce. Io non è possi... Cioè, non è possibile. Le mie scarpe, sono lì. Ci sono le mie scarpe. Ma che cacchio ci... Ma cosa state facendo lì, parkour? Ma porca... Eccole, 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 eccole. Guardala, guarda la mia roba. È lì. È lei. No, ma che c... Ma sono esplosi tutti? Raga, sono esplosi tutti. Non c'ho più un cacchio io. Dov'è il mio elitra? Dov'è il mio elitra? Niente, raga. Abbiamo perso... Abbiamo perso l'elitra. Abbiamo perso l'elitra. Abbiamo perso altre cose. Non so neanche più cosa c'avevamo dietro ormai. Mi è rimasto solo un cristallo del... Ma... Guarda se... Ma porca di quella vacca. Allora. Spacca sto coso. Da sotto. Da sotto. Bravo. Ok. Il cristallo fluttua. Oh. Ho sfondato l'isola. Ho sfondato... No, no, no. Santa, no. Raga, non ho parole. La mia pala. La mia pala. Ho perso tutto. La mia pala. Raga, non voglio più vivere in questo mondo. Che vita crudele. Perché? Perché? Perché deve succedere a me queste cose? Perché? Perché mi si sono buggati i cristalli qua? Raga. Cosa è successo? Dai, ma guarda... Ma porca va... Ma perché per mettere... Questo è... Questo è colpa di Nugget. Questo è colpa di Nugget. Che mi viene a dire... Vai a mettere il cristallo delle... Nugget. Ma porca vacca. Io, raga, piango. Cioè, davvero non... Non è possibile. Ce l'ho un altro Elytra da qualche parte? Forse. Forse avevo trovato tu Elytra nella fortezza là e forse ce l'ho. Io spero. Per favore, datemi una bella notizia. Dove... Dove è l'Elytra? Cioè, dove... Dove cacchio l'ho messa? Non l'ho messa. Perché non ce l'ho un'altra Elytra. E invece? E invece sì. E invece sì. Grazie. Grazie. Non è buona? Cioè, non è... Non ha tutte le robe, ma vabbè. Quella... In caso la reincanto io. Non mi interessa. L'importante è averla recuperata. Adesso basta, raga. Andiamo... Fatemi fare quella farm di... Di villager. Perché, guarda. Per sistemarla, quella farm, ha bisogno di un po' di cose. Innanzitutto mi serve anche vedere il crafting dei composter. Ok? Che si fa con tutte le slab di legno. Che schifo è? In teoria ha messo per così. E non me lo fa... Ah, no. Bedrock. Ah, ok. Per la Java. Ma serve quella... Ok. La domanda è perché mi devi mettere due crafting differenti per la stessa cosa. Però vabbè, siete infami, eh. Dicevamo, legno sotto. Mettiamo questi qua. Compostiera. Ok, me ne servono quattro. Poi mi servirebbero quattro pezzi di vetro. Ok? Perché sono da mettere sopra la compostiera. E i blocchi da costruzione ce li abbiamo. L'unica cosa che mi manca è del grano da dare ai villager. Perché questi qua devono... Devono mangiare in qualche modo per... Per potersi riprodurre. Quindi serve tanto grano. Fai bene prendere un paio di stack. Tanto qua abbiamo la farm che va all'infinito. Anzi, adesso che mi ci fanno pensare mi serve anche del... Del letto. Cioè, dei letti. Mi servono otto letti. No, raga, ma sono... Guarda, sono depressissimo. Perché non è possibile una cosa del genere. Forza. Allora, ragazzi, vediamo di sistemarvi a voi. Perché ho bisogno di altri villager. Ho bisogno che voi mi restiate vivi. Allora, come fare il tutto? Cosa c'è qua sotto? Raga, c'è una stanza qua sotto di qualcosa. Ma abbiamo scordato qualcuno dentro sti blocchi? C'erano tipo dei cadaveri. Avevamo qualcosa. Per la nostra farm questo non ci serve. Quindi qua possiamo chiudere tutto. E andare a mettere il nostro secchio. Non ho preso il secchio d'acqua. Ma perché? Facciamo finta che abbiamo il secchio d'acqua. Allora, qua in mezzo. Questa. Ok, compostiera, numero uno. Sopra ci mettiamo del vetro. Il vetro, c'è scritto che è importante per il semplice fatto che sennò questi villager si incastrano. Guarda che sono diventati dei robbi, bellissimi. Dicevo che il vetro è importante perché sennò sti tizi qua sono scemi e si incastrano. Dunque, intanto loro fanno robe. Non so cosa fanno, però fanno robe. Andiamo a prendere il secchio d'acqua centrale perché lì ce ne va uno e mezzo per idratare tutte le piante. Abbiamo i letti. Mi servirebbe la pala per scavare a terra e un piccone con siltac. Ho perso anche quello, raga. Ho perso anche il piccone col siltac. Certo. Grazie vita. Grazie che mi odi. Ora, andiamo a scavare esattamente un buco sotto dove abbiamo messo quello e ci andiamo a mettere dei blocchi. Qualsiasi, in teoria. Non so se va bene anche la terra. Comunque, sono dei blocchi che poi questi esterni vanno messi sotto il vetro. Quindi il vetro l'ha spostato di un blocco. Mentre su quelli interni ci si va a mettere un letto per ogni angolo. In realtà sono due letti per ogni angolo perché sono otto letti. No, 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 no. Non sapevo che ve l'ho andato io. Io, raga, sto odiando questo episodio. Io, raga, io, raga, sto odiando questo episodio, giuro. Se non faccio esplodere il mondo entro a fine episodio, sono contento. Perché vuol dire che se ho riuscito a calmare la mia rabbia, non ho fatto esplodere tutto con le TNT, sono contento. Cosa guardi te qua? Guardi i tuoi amici che giocano? Tra un po' schiattano. Vuoi vedere come schiattano? Se domattina, guarda, se domattina non sono entrati da soli li ammazzo. Cioè, te mi stai dicendo che sei entrato da solo. Io sono qua da mezz'ora. Sono andato a prendere la roba per buttarti dentro e poi entri da solo. I prossimi siete voi, eh? Allora, forza, letti. Dobbiamo metterne. Lui li mette, credo, così per estetica. Non so se hanno un senso o no. Facciamo come fa lui. Perché, guarda, non c'ho voglia di starci dietro contro sti cosi. Cioè, io... Raga, io volevo fare altro in sto episodio. Io volevo fare altro. Mi sono messo a litigare con dei cosi. Mi sono messo a litigare con l'endcrystal là sopra che mi è esploso tutto. Ho perso tutto, ho perso. Raga, ho perso tutto. Non ho più nulla. Ma io dico... Cioè, è possibile una cosa del genere? No, no che non è possibile. Ora, voi, accoppiatevi. Bravi, bravi. Passatevi la... No, sei storto, sei. Lancia la dritta, almeno. Dai, forza. Prendete. Prendete, accoppiatevi tutti. Sì! Sì! È nato! È maschio! Ti ammazzo se vedi, eh? Fatti raccontare la storia dello zio. Vai. Vai, vai, che te lo spiegano bene che fin'ha fatto tu zio. Ora sono contento. Ora finalmente funziona qualcosa in sto gioco. Nugget, io te lo dico. Cioè, se stai guardando questo pezzo di video e tutto. La prossima volta che mi consigli qualcosa che c'entra con cose esplosive, non ti ascolto. Sei stato tagliato fuori dalle cose esplosive. Va a finire che mi ritrovo il mondo che è un groviera. Va bene. Raga, quando si decideranno faranno tanti figli e nel frattempo io penso che possiamo terminare qua. Perché per oggi, guarda, sono arrivato al limite. Io avrei dovuto fare un'altra cosa, ovvero io volevo fare una pixel art, ma molto probabilmente a questo punto la faremo la prossima volta. Perché non so da quanto io sono. Io sono qua da un'ora. Io sono qua da un'ora e non ho fatto niente. Sono esploso. Ho fatto esplodere il mio mondo. Non ho potuto recuperare la mia roba perché non avevo il salvataggio di scorta. Sbagliatissimo. Sempre avere il salvataggio di scorta. E basta. Niente. Io ragazzi penso che per oggi possiamo terminare qua l'episodio. Noi ci vediamo la prossima volta. Non so quando. Perché adesso devo sistemare tutto. Cioè devo fare un gran lavoro sia sopra là per riparare quel robo. Che rimettere gli end crystal e tutto. E sperare che funzioni quella farm di villager. Perché io ho visto che l'hanno fatto col figlio. Però se me ne fanno uno e basta. Non è che funziona molto. Ecco. In ogni caso se volete lasciare dei consigli su cosa costruire prossimamente. Fate pure. E costruiamo cose. Senza esplodere magari. Per questo episodio è tutto. Ci vediamo alla prossima parte sempre su Minecraft. Qui da Landolf è tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.